Bellissimo a tutti raga e benvenuti in un nuovo video di PokéShiny quest'oggi andremo ad aprire diviso in due parti 17 pacchetti di Turbo Blitz ora ho lasciato due pacchetti con i fogliettini delle ericole poi gli altri li ho già tolti perché voglio far vedere una cosa allora iniziamo col primo fogliettino che è questo scambio e gioca di leggete bene aprile 2017 a 4,90 euro qui c'è occhio falsi adesso vi faccio leggere cosa c'è detto qui c'è il mazzo con Mega Mewtwo X vi faccio vedere se nel caso volete un consiglio su come fare questo mazzo e qui vi spiega come riconoscere i falsi tipo una bustina falsa riconoscibile dai bordi argentati in alto e in basso anziché colorati perché quello originale non ha i bordi argentati e poi ovviamente gli HP superiori ai 1000 cioè come fa un gabaita ad avere 8000 di HP comunque e poi non ha il codice e poi e poi ancora dal 5 maggio edicola abbiamo la rivista di nuovo ufficiale con il pacchetto la bustina di presentazione di sole e luna guardiani nascenti ok e abbiamo detto che questo è aprile giusto 2017 a 4,90 poi il pacchetto lo apriamo dopo perché vi faccio vedere l'altro congetto sempre di aprile 2017 a 4,50 cioè non lo riesco a capire solitamente il prezzo cambia da uscita a uscita magari da un mese all'altro ma non nello stesso mese cioè ci sono i Turbo Blitz a 4,50 e i Turbo Blitz a 4,90 va bene e poi vi porto anche un altro pacchetto di anzi lo abbiamo per primo di forze spettrali quindi non lo so perché hanno fatto tutti questi misteri della Pokémon stessa uscita con prezzi diversi ah questo è già aperto guardate guardate qua ecco qua c'è veramente poi dicono i falsi cioè i falsi sono 1,2,3,4,5,6,7,8 carte mancano la rare e la reverse guardate cioè ve ne rendete conto e quando sono chiusi ragazzi non ve ne accorgete io adesso li conoscerò i Pokémon le bustine Pokémon ma niente non ve ne accorgete cioè guardate che pacchetto di merda e poi fanno tanto i le rotture di coglioni sui falsi falsi posolori primi che mettono i pacchetti aperti senza aderare le reverse vabbè comunque lasciamo stare andiamo con Turbo Blitz veramente sono vergognosi vergognosi poi nello stesso mese mettono un prezzo e un altro cioè io veramente comunque qua c'è già qualcosa almeno Cacturn bello questo bufetto strokatier pancham meo sensu swineab paras zoro reverse mutuex questa è quella che si trova di più infatti non so quante altre volte l'avrò trovata ma va bene proseguiamo questa l'ho già cacciata la bustina allora behem o behem quilladin vanimish doduo stadio bello questo sine qui pamphur frocky stunfish scorers e not all raro le carte di Turbo Blitz non me le ricordo bene perché con tutti i set che apro sinceramente era da un po' che non le ho aprite non me le ricordo alcune carte però mi fa sempre piacere rivederle allora hunter crumbull eccola città parallela lo sto dicendo reverse magnemite cubon snubbull cacnea scatterbank octillery reverse e romatisse raro octillery anzi raro reverse continuiamo ancora con questo artwork floet corpetto assalto brexel wubat axiu remorade sprizzi sin da qui legame mentale con hondum reverse e parasectral rosigamo ancora rosigamo ancora rosigamo ancora si si c'è in mente una canzone quindi oh c'è cos'cos'altro vamos cos'è un'altra rispon x'è in mente d'un altro che non sia un altro mio due ex prim plump hunter proseguiamo anemone priplop prenotazione pansegg roll scatterbug tediosa goldin galled straptor galled mi pare che era anche olografico ultimo pacchetto per questa prima parte e abbiamo un paio swine flowet energia infuocata pampur frochi bronzor chestpin piplop panseggio e vers e mammo swain oro perfetto ragazzi la prima parte termina qui battete un like se vi è piaciuto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e vi aspetto per la seconda parte bye